Il Consiglio dei Ministri convocato per oggi renderà quasi certamente illimitata la durata del Green Pass per chi ha ricevuto la terza dose del vaccino. L'esecutivo studia nuove regole per gli asintomatici per il mondo scolastico. Intanto la curva flette ancora con il tasso di positività giù di tre punti, ieri altri 427 decessi, ma con i ricalcoli dei giorni precedenti. E continua intensa l'attività diplomatica per scongiurare il ricorso alle armi in Ucraina. Ieri lunga telefonata tra il Premier Draghi e il Presidente russo Putin che si è detto disponibile ad una soluzione pacifica. La condizione però è sempre che il governo di Kiev non scelga di entrare nella Nato. Johnson in visita a Kiev, ribadito il suo segno all'Ucraina da parte del Regno Unito. Il Consiglio federale della Lega ha confermato con patto il sostegno a Matteo Salvini. Dopo la sconfitta politica nella rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, il leader del Carroccio lavora a riformare il centrodestra in una nuova federazione. Tra i cinque stelle rimane aperta la contrapposizione di Maio Conte. Il Ministro degli Esteri ha incontrato ieri l'ex sindache Raggi e Appendino e la responsabile del DIS, Elisabetta Belloni. Venerdì prossimo prenderanno ufficialmente via le Olimpiadi Invernali di Pechino. Nel paese dal quale partì la pandemia i controlli di prevenzione al Covid sono particolarmente attenti. Anche il Presidente del CONI, Giovanni Malagolso, arriva in Cina e risultato positivo. Sta bene ed è asintomatico, ma dovrà rispettare l'isolamento in una struttura idonea. Le 7.30, buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. In primo piano la riunione del Consiglio dei Ministri di oggi, dalla quale dovrebbero arrivare novità importanti per quanto riguarda soprattutto la lotta al Covid. Novità sono attese in particolare anche sulla scuola, ma anche sulla durata del Green Pass che potrebbe diventare di durata illimitata per chi ha completato il ciclo delle tre dosi. Intanto sembrano essere confortanti i dati delle ultime 24 ore, anche se resta alto il numero dei decessi. Vediamo. Facciamo il punto nel servizio di apertura. Prima il Comitato Tecnico Scientifico, poi il Consiglio dei Ministri. È atteso oggi il nuovo decreto sul Covid per semplificare le procedure nella scuola, ma anche per prolungare la durata del Green Pass di chi ha fatto la terza dose. In attesa del parere dell'EMA e dell'AIFA sulla possibile quarta dose, probabilmente solo per determinate categorie, l'esecutivo sembra intenzionato a rendere di durata illimitata la certificazione verde per chi ha ricevuto il booster. Un provvedimento necessario perché più di 100.000 persone rischierebbero a marzo di vederla scadere. Proprio da ieri infatti la durata del Green Pass è scesa da 9 a 6 mesi. Per quanto riguarda gli studenti si va verso quarantene più brevi, ma non solo. Anche per le scuole primarie la didattica a distanza potrebbe scattare solo con tre positivi e non più con due, come già avviene nelle secondarie. Provvedimenti che seguono il decrescere della curva epidemiologica. Nelle ultime 24 ore gli attualmente positivi hanno registrato il calo più significativo degli ultimi mesi, diminuendo di 116.000 unità, portando così il numero complessivo delle persone in isolamento sotto i 2 milioni e mezzo. Scende anche il tasso di positività al 10,1%, oltre tre punti in meno rispetto a una settimana fa. A fronte di 1.246.000 tamponi processati, i nuovi contagi sono stati 133.000. Martedì scorso erano 57.000 in più. Non accenna a diminuire invece il numero delle vittime, 427. Ancora in calo anche la pressione sugli ospedali. Sul fronte dei vaccini a gennaio sono state somministrate oltre 17 milioni di dosi, con una media di 548.000 al giorno. Ora più del 90% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Ressalta la preoccupazione della comunità internazionale per quanto riguarda la crisi Ucraina, così come restano accesi i toni tra Mosca e Washington. Ieri il Premier, il Presidente del Consiglio Italiano Mario Draghi, ha telefonato al Presidente russo Vladimir Putin cercando appunto una mediazione da parte di Putin. È arrivata intanto la conferma che continueranno ad arrivare stabili le forniture di gas all'Italia. Vediamo. Nonostante la girandola di incontri e telefonate ai continui tentativi di mettere un'argine alla crisi Ucraina, ponendola sui binari della tanto sospirata de-escalation, la soluzione appare al momento ancora molto lontana. A questi tentativi ieri mattina si è unito anche il Premier Draghi che ha sentito telefonicamente Vladimir Putin un colloquio servito a ribadire la posizione dell'Occidente. Mosca abbassi la tensione smettendo di ammassare truppe al confine o si rischia una crisi dalle conseguenze imprevedibili e ad ottenere, oltre ad una non meglio precisata disponibilità al dialogo, la garanzia della stabilità delle forniture di gas al nostro Paese, questione sensibilissima in un periodo di costanti e pesanti rincari. Promessa, peraltro, in qualche modo incrinata qualche ora dopo, quando il leader del Cremlino, ricevendo il Premier ungherese Orban, crepa di non poco conto in un fronte europeo che vorrebbe apparire compatto nel suo sostegno a Kiev, ha alluso ai problemi che i paesi del vecchio continente potrebbero avere in futuro sul mercato del gas. Nella stessa sede Putin ha parlato di scontro molto probabile in caso di ingresso nella Nato di una Ucraina definita uno strumento nelle mani di Europa e Stati Uniti per contenere la Russia. E mentre il Premier britannico Johnson si è recato a Kiev dal presidente Zelensky, portando in dote la promessa di 88 milioni di sterline di aiuti e quella di nuove sanzioni già pronte in caso di invasione russa, la telefonata tra il segretario di Stato statunitense Blinken e il ministro degli esteri russo Lavrov si è conclusa con un sostanziale nulla di fatto, con il primo che ha fatto notare l'assenza di indicazioni di de-escalation da parte russa. Meno netto Lavrov, secondo il quale gli Stati Uniti hanno accettato di discutere delle preoccupazioni di sicurezza russe, un tema sul quale però lo stesso Putin aveva detto esattamente il contrario. Però oltre che dell'azione diplomatica, della crisi dell'Ucraina e anche della pandemia, il governo si trova a dover affrontare anche delle scadenze importanti come quelle relative ai progetti del PNRR. Ecco perché c'è molta attenzione per quanto verrà deciso e discusso nel Consiglio dei Ministri oggi. Vediamo. Alla vigilia del secondo giuramento di Mattarella, il governo Draghi è in programma per oggi il secondo ravvicinato Consiglio dei Ministri, puntato sì sulle misure anti-Covid, ma con la testa già sul PNRR. Missione assicurare l'approdo certo delle tre tranche previste del piano Next Generation EU e in particolare 45 obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno per ottenere la seconda tranche, quella da 24 miliardi, mentre è ancora sotto esame la relazione sulla prima. Così sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi, previsto uno sguardo sullo stato dell'arte, avanzamento dei progetti, riforme e investimenti. Mancano ancora cinque mesi, ma gli obiettivi sono complessi, con varie fasi di sviluppo e spesso il convolgimento di più di Casteri, oltre a quello degli enti locali e dei privati. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha invitato i Ministri a indicare lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, segnalando l'eventuale necessità di interventi normativi e correttivi connessi alla realizzazione dei suddetti obiettivi e traguardi. Con il nodo dei nodi, poi, dal punto di vista pratico ancora, tutto da verificare. Quello della cinghia di trasmissione tra governo centrale, poteri locali, regioni in primis, dotate di un apparato tecnico che, finora in molti casi, non ha saputo brillare dal punto di vista dello studio e della presentazione dei progetti. Servono tecnici specializzati dappertutto, dai Ministeri ai Comuni. La riforma per velocizzare i concorsi c'è, ma per ora solo sulla carta. Problemi tecnici, che sono però anche politici, con Presidente di Regioni messi non di rado anche per l'emergenza pandemia, in contrasto col governo. Talora perfino con gli stessi partiti di appartenenza. Problemi non da poco per un Presidente del Consiglio, che dalla Kermesse qui rinalizia può considerarsi sì più forte, ma solo nella misura in cui sono più deboli i partiti. E allora, a proposito di partiti, come si faceva accenno nel servizio appena andato in onda, c'è la replica in diretta a Giorgio Ameloni, da parte del leader della Lega Matteo Salvini, che ieri ha ottenuto una rinnovata fiducia, un rinnovato sostegno da parte del Consiglio federale. E allora lui ha detto, io lavoro per unire e non rispondo alle invece provocazioni, alle polemiche. Sentiamo. Il portabandiera della Lega Matteo Salvini ha incassato ieri la fiducia del Consiglio federale per trattare, allargare e potenziare le alleanze come alternativa alla sinistra. Nei giorni più difficili, in un clima da far west, qui rinale, il segretario ha messo un punto fermo con la base leghista e riparte, tra le mura di via Bellerio, il conforto nel quartier generale Amico, lontano dall'area aspra di Roma. Fonti all'interno riferiscono di animi distesi, Giorgetti, i governatori Zaglia e Fedriga seguono collegati in video tra i temi di giornata. Appoggio pieno ai cavalli di battaglia del segretario, scuola, carobollette, nuove tasse sulla casa e la difesa dei confini. Ma la vera partita è in nazionale, cosa resterà del centrodestra, come ricompattare la coalizione? Da Roma sponda Fratelli d'Italia, soffia vento freddo, la Meloni sul lavoro di Salvini nella partita del Quirinale ha detto ha fatto una cosa folle appoggiando il Mattarella bis. Il segretario tiene un profilo basso e smorza i toni, lavoro per unire, non rispondo a polemico e attacchi, dice Salvini. L'ex ministro sostiene che la Lega è compatta, il centrodestra si ricostruisce, non c'è problema, Meloni e Salvini non si sentono da giorni, toccherà forse a Berlusconi ricompattare la coalizione. Nel centrodestra non solo le frizioni tra i generali, bisogna compattare anche i colonnelli. Il centrista Toti non ha sostenuto la Casellati, nella Lega diversi senatori vicini a Salvini non hanno gradito il tradimento. Da tempo l'idea di Salvini è quella di creare una federazione di centrodestra sul modello del partito repubblicano-americano, stessa idea del leader forzista che ha aperto più volte a un'ipotesi simile dopo otto giorni di ricovero al San Raffaele. Lunedì il presidente di Forza Italia era stato dimesso, Salvini che era in via Bellerio, lo ha raggiunto ad Arcore. Ho abbracciato un caro amico, ha detto ieri ai giornalisti, giornata di lavoro, ci tiene a far sapere il Cavaliere che si fa vedere nei social sul divano di Villa San Martino. E anche all'interno del Movimento 5 Stelle però c'è area di chiarimento con delle forti polemiche che contrappongono i due fronti, quello capeggiato da Conte e quello da Di Maio. Vediamo. Tra i 5 Stelle ancora scossi dai contraccolpi della partita del Quirinale non perde l'intensità lo scontro tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Il ministro degli esteri che ha invocato fin dalla sera della rielezione di Mattarella una riflessione politica all'interno del Movimento e quindi sulla leadership dell'ex Premier si muove a tutto campo e incontra raggi a Pendino, ex sindache pentasterlate di Roma e Torino e a sorpresa con tanto di foto sul suo profilo Facebook anche Elisabetta Belloni, il capo dei servizi segreti che per alcune ore è stata candidata al Colle per Salvini, Conte e Meloni ma che Di Maio aveva ostacolato. Con il ministro Di Maio, spiega Belloni, c'è un'amicizia sempre più solida, Di Maio è sempre leale. Con raggi a Pendino un incontro tutto politico si è parlato anche della situazione dei 5 Stelle dopo le tensioni interne del dopo voto presidenziale, una strategia quella del ministro degli esteri che punta ad estendere la sua influenza tra i 5 Stelle in chiave anticonte, il quale in un'intervista del giorno prima aveva spiegato Di Maio dovrà rendere conto di diverse condotte molto gravi ai nostri iscritti e alla nostra comunità. Nella sostanza l'accusa per Di Maio è di aver tramato alle spalle del capo politico. Quella nota serale del titolare degli esteri spiega infatti Francesco Silvestri, vicinissimo a Conte, che smontava la candidatura di Isabetta Belloni, rimane inaccettabile. I toni dunque restano alti e il deputato 5 Stelle Sergio Battelli, federissimo del ministro degli esteri, annuncia che è indispensabile un momento di confronto, anche un'assemblea congiunta, perché non si può lasciare tutto a mezzo stampa, deve essere un confronto principalmente per i gruppi parlamentari, non si può continuare a parlare sui giornali. Ci sono state altre crisi, aggiunge Battelli, escludo scissioni, ma Conte non può dire o con me o contro di me. Luigi Di Maio all'interno del movimento presiede il comitato di garanzia in cui siedono anche i Virginia Raggi e Roberto Fico. L'organismo, secondo lo statuto, può anche decidere la sfiducia del capo politico attraverso una delibera assunta all'unanimità da sottoporre alla valutazione degli iscritti con una consultazione web. Dopo i dati positivi della crescita della nostra economia ci sono buone notizie in arrivo anche per quanto riguarda il mondo del lavoro, perché la disoccupazione è scesa al 9%. Vediamo. L'occupazione è tornata ai livelli pre-pandemia al 59%, lo certifica l'Istat che con i nuovi dati ci dice anche che il mercato del lavoro si è stabilizzato ma che il tasso di disoccupazione resta ancora fermo. A dicembre del 21 era infatti attestato al 9%, solo un decimo in meno rispetto è scesa la quarta ondata di Covid-19 e l'aumento dei costi dell'energia. Nel 2021 gli occupati sono invece cresciuti di 540.000 unità sull'anno, un dato trainato però soprattutto dai dipendenti a termine. Risulta in crescita l'occupazione femminile che sale al 50,5%. Mentre rispetto al gennaio del 2021 il numero di chi ha un lavoro è cresciuto di 650.000 ma a spingere la ripresa degli occupati restano i precari. Sono loro al 16% a trainare l'occupazione, sono gli assunti con contratti a tempo determinato e principalmente sono giovani e donne. Ma nonostante la salita al 50,5% il tasso di occupazione femminile resta il più basso d'Europa. Per quel che riguarda i giovani restano tantissimi senza lavoro. A dicembre l'Istat ha certificato il calo dal 28 al 26,8% della disoccupazione rispetto al mese precedente. L'aumento dei contratti a tempo determinato crea preoccupazione sia tra gli addetti ai lavori che tra i sindacati non solo per l'instabilità data dalla mancanza di garanzie ma anche per i salari fermi ormai da anni. Per la prima volta nella storia il debito pubblico degli Stati Uniti alimentato anche dalle spese per la pandemia ha superato i 30 trilioni di dollari. Oltre 23 trilioni appartengono a investitori stranieri guidati da Giappone e Cina. Il 16 dicembre il Presidente Biden aveva firmato una legge che sospendeva il tetto del debito pubblico impedendo così al Paese di andare in default. E adesso torniamo a parlare di Patrick Zaki, lo studente egiziano detenuto per due anni nelle carceri del Paese. Ieri c'è stata una nuova udienza, i giudici non hanno deciso ma hanno rinviato tutto a una prossima udienza del 6 aprile. Deve ancora attendere Patrick Zaki. Sono bastati infatti 10 minuti al giudice di Monsura per stabilire ancora un riveo per lo studente egiziano. Si va al 6 aprile, Patrick resta fuori dal carcere ma su di lui pendono ancora le accuse di aver diffuso notizie false in Egitto e all'estero sulle discriminazioni subite dai cristiani copti nel Paese africano che potrebbero portarlo in cella per un massimo di 5 anni. Ad accompagnarlo all'udienza ieri mattina è stato il padre. Zaki è vestito di tutto punto, cravatta, blu e cappotto di lana. Il giudice decreta che l'udienza si svolgerà a porte chiuse. I membri della delegazione diplomatica composta dai rappresentanti di Italia, Belgio, Stati Uniti, Germania e Spagna rimangono dunque fuori ad aspettare. In aula ci sono solo i legali di Zaki oltre che naturalmente il loro assistito. Poi rinvio la delusione sul volto di Zaki una volta che è stato raggiunto dai giornalisti. L'ennesima attesa dunque non c'è fine a questa storia iniziata più di due anni fa. Gli ci vorrà ancora un po', si spera, per tornare nella sua amata Bologna. Zaki ha poi raccontato che mentre attendeva il giudice in aula lo hanno messo dentro una cella insieme ad un criminale comune. Non deve essere stato facile per lui rivivere anche se per poco quei 22 mesi di detenzione quando ha dovuto dormire anche per terra. Poi il forte mal di schiena e la grande paura del Covid. C'è stata una sensazione orrenda rivivere le sbarre, ha dichiarato poi dopo. Ma c'è ancora speranza. Terminata la prima ondata di dilusione, lo studente egiziano trova la forza per dire rimango sereno. Continueremo a starti accanto, gli scrive la sua professoressa Rita Monticelli da Bologna. Poi la ventata di ottimismo. Va bene così, sono ancora libero, commenta il paziente Zaki. Ed ora la pagina dello sport. Paolo Dalpino non è più il presidente della Lega Calcio di Serie A. Il manager milanese ha presentato le sue dimissioni con una lunga lettera inviata al club. Intanto fra due giorni, venerdì prossimo, iniziano. C'è la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino. Naturalmente a pesare c'è lo spettro del Covid. Il presidente del CONI Malagò, che è arrivato a Pechino, dovrà saltare però quella cerimonia perché è risultato positivo ai test. Vediamo. Brutta sorpresa per Giovanni Malagò. A sole 24 ore dal suo sbarco a Pechino, il numero uno dello sport italiano è risultato positivo al Covid, cosa che lo costringerà a saltare la cerimonia d'apertura in programma dopo domani. Malagò, sottoposto al test nel suo albergo di Pechino, è stato posto in isolamento in una struttura dedicata, pur risultando asintomatico. E dove ha ricevuto la telefonata del presidente del CIO Thomas Bach, il quale al termine della sua visita al villaggio ha poi apposto la sua firma al murale della tregua olimpica, che simboleggia l'impegno da parte degli atleti per la costruzione della pace nel mondo, grazie proprio ai grandi valori dello sport. Ma è il problema Covid al momento sotto controllo a preoccupare gli organizzatori cinesi. La fittissima rete di test, tesa a proteggere gli atleti isolati nella bolla olimpica, ha fatto registrare nuovi casi portando il totale dei positivi a 270. Il direttore generale delle comunicazioni Zhao Weidong e la presidente della commissione atleti Yang Yang hanno dato vita a una conferenza stampa che ha scatenato polemiche. Dopo aver garantito che la prevenzione adottata permetterà di tenere sotto controllo i giochi, hanno esortato gli atleti ad attenersi scrupolosamente alle regole della carta olimpica, sia in gara che durante le premiazioni, per poi invitarli ad esprimere le loro opinioni solo al di fuori delle competizioni, assumendosi le responsabilità di ciò che diranno. C'è invece preoccupazione riguardo le piste che ospiteranno le gare di sci alpino, su di una collina scarsamente innevata, distante di 90 km da Pechino e dove il freddo raggiunge temperature proibitive. Ottimismo invece nel clan azzurro per la nostra punta di Diamante Sofia Goggia. L'incidente subito nel Super G di Cortina lo scorso 23 gennaio sembra oramai un brutto ricordo. La sua grande tempra, come dimostrano queste immagini, le ha consentito un recupero record, che fa ben sperare per la sua presenza nella libera del 15 febbraio. Solo un miracolo, peraltro non impossibile, potrebbe invece consentirle di prendere il via anche nel Super G in programma quattro giorni prima. Rimanete con noi, adesso c'è Valeria Colombo, vi darà tutti gli aggiornamenti sulla viabilità autostradale, poi torna come sempre Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo. Vi segnalo alcuni degli ospiti di Alessandra Sardoni che conduce il dibattito, ci sono Claudio Tito, Veronica De Romanis, Barbara Tedaldi, Sabino Cassese e poi subito dopo Andrea Pancani conduce Coffee Break, insieme a lui ci sono Luca Barbareschi, Marco Furfaro, Laura Ravetto, scusate Mario, la via a tutti voi. Una buona giornata, ci vediamo domani, grazie.